Non mi hanno risposto quelli della Quersus però A me non ha risposto la signorina per la Parfine Premium Sta grandissima Non ti ha cagato? Ma sai me l'ha detto anche il Gezwi che c'è un botto di mail da Kettle Arrivata da un mese così Però insomma Ma domanda tu quando hai chiesto la Quersus Quanto tempo ci hanno messo per risponderti almeno? Per rispondermi non lo so l'ha fatto il mio network non io Però so che dirti che dopo la richiesta ci ha messo Due mesetti il tutto Minchia no fanculo me la compro da solo Non resisto ancora due mesi con sta roba Ma poi puoi comprare Cioè nel senso Questo c'ha anche il nome Cioè nel senso Secondo me ci sono delle serie che costano la metà Anche 150 che sono worth Piuttosto che questo Che sono buone Let's go Via Mamma mia il Darkseal ragazzi E le tre pozze Non c'era altro Mentre Si vede che non mi seguo come i miei fan Bro il Kull L'oggetto dei soldi va bene su tutti Perché ti dà i soldi Quel hit a me è stupido Non serve a niente No ti serve ad avere sustain e quel po' di add all'inizio Comunque o nel senso sono quei 3 HP ogni hit Caccia via guarda che non sono mica pochi E niente ti serve semplicemente a fare soldi Cioè tu arrivi al punto di recuperare i soldi che hai fatto con quell'oggetto Però allo stesso tempo è un oggetto che in lane ti aiuta Io la vedo così Ti dà un po' di add e un po' di sustain Guarda come saltella Ma che ti sto pinguino Che ti sto pinguino Che schifo i poveri Mamma mia che schifo i poveri Bella Death Junks Signori a la sedia dell'Ikea Marcus costa poco E è super morto Non è un troll Allora Il signor Death Junks Consiglia la sedia Marcus dell'Ikea Dell'Ikea Guarda che all'Ikea A parte che l'Ikea non ce l'ho qua vicino E poi ne volevo una abbastanza anche carina da vedere Vai 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 Il po' che è partito bro Si chiama Zib Avevo letto Zeb Si chiama Zib Che bravo po' cari che sono Cosa si è messo la funzione Easy Mamma mia il Guardian Quasi Che fa questo? E' fuori di testa Cosa fa non lo so Oh yes Aiuta Ok Andiamo andiamo Aia porco Due A testa di cazzo Ma via C'è There is a problem Scappa in fretta Non c'ho manco la E Vabbè vai tranquillo Abbiamo fatto il nostro lavoro Va bene Ci accontentiamo Grazie Death Junks per la donation Lo chiamavano l'uomo Dello spam di caffè Tutti da un euro A spam Almeno una volta live Death Junks Deve fare la sua donation Per dire qualcosa Ma ci cambia i soldi sport Mamma mia Oh Uh Quel miss di E Guarda 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 qua Dai Rengar Ce la fai bro E' easy peasy per te Vai Tirala E Bravo Bravo Shot a quel Ma no Cosa ho visto Quello no Quello non lo dovevo vedere Non lo dovevo vedere Quando mi donarono Tipo 1300 euro Mi fecero storie Per il riciclaggio di denaro Ma tipo tutto in una botta O vicine Vicine Molto vicine 200 euro a botta Ah Erano i famosi soldi Delle verifiche Di mister Danny Di lui E anche di un chizzo S'hiamato Ondar Che da un botto Non lo sento più Ma ci sta La fortuna Io c'avevo Il dio cecco Chi? Praticamente Praticamente era sto ragazzo Guarda come si fa pocarisi questa Grazie Grazie Sì 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 Prendi un altro Brava brava Metti quelli Esatto Metta Ma noiosi Yes Noiosi Noiosi Io c'avevo il dio cecco Che era sto ragazzo Che venne da youtube Quando facevo i ride Venne su twitch Cioè mi donò Tipo il live su youtube C'è due bot da 100 euro Da 50 euro Cosa del genere Poi venne su twitch Scoprì come funziona La cosa di sub E fece tutti i tre Tier di sub 5 10 25 Poi così per due mesi Due o tre mesi Poi è sparito No Sono sempre i migliori Che se ne vanno È vero Per intraccelo Stomp Non sono dopo il test Comunque ragazzi Siamo in questo momento A 422 sub Sono veramente Euforico Allora Io ovviamente max ho la W A troia Prisa Che male che fa questo E non ho procato l'electra cute Penzi lei Mi sono scordato Mi sono scordato Che il cooldown Della culinara All'inizio è altissimo Però se la riprendi Quanto è Sì Una volta da basso 8 secondi Oh yes Ma sai quante volte Mi capita Si è che non si è abituato All'elo Cazzo se sono squish Oh il mana flow bent Quanto mi manca Bravo bravo Troia No Che sfiga mate Abbastanza Soprattutto perché sono morto ora La Q Lo stavo per fare Ma sarei morto All'lucky 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 Va bene così Ding 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 Il ding ding non manca mai Ah io c'ho È tutto mutato Quindi Sì ormai C'è Ho tolto proprio l'audio Dei ping Quindi vedo soltanto I Come si dice Colore sulla mappa Puoi fare bene 42 sub War e Uno One versus One Certo Chip Subito E la Francia vince Sta giocando con me La Francia sta giocando con te No Mario Mario Vill Cacca Cacca Buonasera Jake Come stai? Da 16 sub A 4 sub In che senso Poche Forse 16 che ne ha fatti A 4 che potrà ripare Perché Ora è squattrina Ah Forse Ai 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 Guardalo Eh Doge a tu GG OP ragazzo Matrix Mamma mia Eh no eh Questo no Non è malato Questo non lo accede Vai a rompergli il culo A sti figli di puttana Così Mamma mia Troia A troia Posso più farmare Io di oggi non sono a forma Io ancora non lo escevo Quali sei? Eh a me manca un minion solo Oh me la vogliono toglie Cosa via? Doge Che bravo che sono Cazzo Doge this Yo bitch Questo è da viviamo Appena ho di nuovo la Oh yes Quello fa la ricerca Non vale però Vado a mettere una ward Ok Perché? Come l'ho lasciata Not possibile Mi hai rotto il cazzo Tu hai capito che Che Dreal parla col gauntlet Con il gauntlet parla? Sì C'è con il suo guardo Ah ok Ah ok Il gauntlet Cazzo non l'ho buildato Il massimo che ho potuto farlo È fargli la combo in faccia Mo' spacca Vuoi l'ignite dopo un secondo Ma sei serio? Il guardian Madonna Madonna il guardo Per forza è sempre qua Oddio Oh Wtf Pazzaito Ma che cazzo Indovina di dove sono Di scampia Secondo me Ho indovinato Che bel posto Ci vuole andare un giorno A scampia Occhio che le puttane costano là Te lo dico per esperienza Ci sono le puttane Fin che vuoi E me l'ha detto un certo Canelupo Venditti Air Daniele No perché Canelupo Venditti Air Daniele Sì sì Lui con Mamma mia Easy Eh certo Tic Guarda lì Ho unata dai danni No No Come me l'ha predictato No way proprio Sì ma Avevo un culo Che non finisce Non finisce più Se ne vada Se ne vada Cogliona What Scusami eh Io come ho fatto Non prenderlo Primo Oh bravo Ma io come ho fatto Non ho idea Cioè era lì Io purtroppo Ho visto solo La mia provata Uh Ne sa Ne sa Ragazzi Pushiamo fast Arriverà TF di nuovo Ecco Easy Bon Andiamo back Ah Ah E' un napoletano Pablo Esco bar Esco al bar Proprio lui Pablo esco al bar Domanda che faresti Se entrassi in contagio Domanda Che faresti Che faresti Se entrassi in contagio Di un simbionte Alla venom O carnage Ragazzi Ragazzi Dovete usare il profilattico Si sa che si passano Tante malattie Poi si contagia così Ragazzi Bisogna usare Il profilattico E lui che cosa Posso dire Il profilattico Dei profi Profi is good Ué Oh yes baby Ahahahah, guarda i cazzati neri ora Cazzati Yes baby Mamma mia i danni Atroci Yeah, una ki pure io, grazie a Dio Grazie Dio mattone Ringrazio il Dio mattone, bro Grazie Dio mattone, questo è il Dio nascer Credo che tutti i cazzati nel cuore Perché è 1-3? Mamma mia Vabbè, team Dio mattone, Dio yogurt, Dio banana Si smutisce mai Hai il retardo nel dubbio Così rimane sicuro, bro Esatto Yes I am Perfetto, hanno già messo in chiaro tutto i ragazzi qua Hanno già messo in chiaro tutti i ragazzi Comunque è divertente andare con la perspita Oh Cristo Questo non ho manco capito dov'era trapparentemente Wow 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 Quanto sei forte Porca troia, ho sentito la tua potenza fino a qua Sono del molise Capito, cazzo, è proprio quello che stavo per dire, bro Molise Vabbè, team ho con lo zone a first item Dio mutante Che male mi ha fatto sta qui Dio bambini gesù Cioè, per me non so Io non sono tech, però, madonna Vado botta a difenderli Venga via Intanto è arrivato un razzo di Jinx Oh cazzo c'è scivano qua Eh, te l'ho pulita Troppo attack speed Arriva, 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 arriva Non c'è trash Voglio addosso C'è scivano che mi stai seguendo Però tu voglio addosso No ma non l'ho assolutamente distrutta Asfaltata Oh ma che cazzo vuole Boom Ma sparisci Minchè, la W è troppo forte, comunque Ma i termosifoni, questa casa è di merda Mi avevo dovuto Mannaggia a lui Lo slalom con le carte Yes Just don't come top Ma è lui che l'aveva chiamato Che bello usare il narcom e Vayne Penso che non andarcene qua Facciamo la fine del topo, se no Non ci schianteranno loro Io l'ho detto Meh Che c'ho da andare in casa A ottobre Lo chiamavo il magico tipo con l'ignite Vabbè, sono troppo forte L'ho presa con le mani Sono troppo forte Minchia E non con i piedi Ho preso una zanzara in volo con il pu... Posso ottenere un'itimizzazione? Il mio account è troppo forte Mi sto spaventando, Ian È fortissimo Cioè, è una cosa che... Solamente i maestri Shaolin post Manca un mese Per cosa morrebbe mai? Per la fine della season? I got it for my daddy Dad, dad Sì Comunque per la fine della season Non lo so, loro chiedevano 13 novembre Diamo un po' la top lane Dai, vengo a fa' un po' il casino io Vabbè, che cazzo Vabbè, è bella Noi ganchiamo top GG, GG Grande, Timo Grande Meno male che abbiamo te, bro Senza scarpe Senza niente Senza scarpe Mi sono apprezzato un Timo Senza tetto Senza scarpe Ahahahah Bah Facciamo il nostro nel frattempo Mi sono fatto poccare come un ritardato Via Shell, via Shell a me Finchia, c'ho 1014 HP con un arco Non so se farmi la trinity No, non so Per me OP Cosa ti fai la guinzo adesso? Sì Uo, arrivo bot Chiudi da quella troia Eh ma, mi ammazzo Ma che ti ammazzo? Ma come ma- Madonna che i hitbox Bra- Guarda! Mi ha flashato la W a full vita Bro Ah, non hai proprio capito un cazzo, ne sa Aiuuuto Ah ok Non mi salvo Non sto a flashare Sì vabbè ma qua c'ho le cartone in due secondi Non so ma a me quell'attac speed lì Eh ma è forte solo in forma piccola Per i sub spammate Salvini 2 C'è il tasto abbonati Ruba, vai subito a rubare L'account prime dai tuoi genitori, dai tuoi cugini o dai tuoi amici Si si sgomberà E vai subito ad abbonarti gratis Senza spendere soldi Sien ragazzi è molto stanco Stavolta la voce non ce l'ha davvero Sembrerebbe, non come l'altra volta No, 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 non ce l'ho davvero Ho fatto tre ore a parlare a macchinetta La voce non ce l'ha O almeno Finchè non gli viene un crampo No, stavolta niente Ormai la socia Ludir Se mi dici il motivo per il quale dovrei farlo Magari ci posso anche pensare Perché lo fa vincente Ah, allora si subito Allora è divertentissimo bro È divertentissimo È un troll bellissimo Molto divertente Funzionante A presenza A me dispiace Noi abbiamo preso il numero dall'elenco Una volta una socia Ludir mi fece perdere la po- Ma poi a socia Ludir non ho- C'è Letteralmente non ganka mai Ah, ok Come Ludir normale insomma C'è che differenza c'è Come un Ludir bronze in poche parole Mi sa che tra poco dovrò assentarmi per tutto un paio di minuti Ok Oh cazzo se è veloce Il Garen Il Garen Il Garen Il Garen Il Garen Il Garen Che vogliamo fare al riguardo Non dovrebbero mettere un tasto per impedire la trasformazione Nah, tipo il Pokémon con la B Ma fa parte della skill Un'idea per una meme su voi due Non cose porno, grazie Ne va della nostra reputazione Esatto Di fascisti E se mai fosse porno Vedrò subito di metterle nel canale appropiato Lo dico per Tejan Non è che mi stanno facendo la gangbang giusto che siamo in tema? Nooo Non sono così schillati Non c'è modo per predicare il twist e il turno avanti Non c'è modo per predicare il twist e il turno avanti That's why I wing it Dai quella carta del cazzo Gli facevo il one shot Perchè Rengar è top? Per killare Garen So solo che io sono morto ancora E so solo che qua è una fiesta, cazzo Niente, loro vogliono prendere la top Che macro, ragazzi High level macro In effetti noi dovremmo andare top High level macro Mi regali il sub Eh, squazzo, non funge così Teemo la Q pronta Allora è fatta Allora è fatta, ragazzi Garen recupera 22 HP Qualcuno muore per la ulti di Garen Garen è lì che aspetta solo di fare Cosa lo stanno assediando in Garen? Timo rank Ma neanche l'ignoranza Che ignoranza Stavolta vado top Vai bro Guarda come Guarda come demolisco i tank Eh? GG Sono andato vicinissimo dal morire però Assolutamente No fall fast Madonna i danni che l'ho fatto Nonostante abbia preso 50.000 min Tu mio boomerang poveria Se la neve viene sotto casa vostra Baffanculo la neve Non può piacervi Dà soltanto fastidio Ma che prima era per senti Minchia la tia che è sempre giù Fuck my life Ma Dove cazzo è andata Jinx? Ha ricalato un altro cespuglio Ripa Boh Ha ricalato un altro cespuglio Cazzo stanno dicendo questi Ma che adesso? Che pazzo Quanto costa Subaru Allora puoi farti Amazon Prime Ed è gratis se paghi il Prime Oppure ripeto Se c'è qualcuno da te Che utilizza Amazon Prime Che compra su Amazon Puoi farlo gratis E che colleghi l'account Altrimenti sono quei 5 dollari al mese E puoi ovviamente interrompere l'abbonamento quando vuoi Non è vero è perenne Yes Guarda 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 Eh rip Guardian più Lantern Se non conosco le regole Come potrei bruciare l'anno? Mamma mia Il damage Lantern Mmh, mmh Mmh, oh Eeeh Fami prendere il granchio, oh yes Granchietto, vieni qua Preso Ma basta andare da soli che tanto ho già capito che... TF vuole me Madonna, ma che tempismo Madonna, ma che tempismo Oddio, cosa hai fatto? Ho shottato Jinx, ma sono l'unico che fa le kille in strada di questo team No, Rengar pure un po' Io ne ho due Bravo Chi ti ha insegnato a giocare così bene Cane lupo Uh Sexy guy Attenzione, va su shivana Va su shivana Che li tira il drago in faccia Attenzione È confusissimo, però attacca Lui attacca Lui attacca Non scherza Easy Era più immediato Boh, Baldoganza, a me piace più questo sinceramente Oltre al fatto che ho giocato AD è più forte e... Secondo me fa molto più danno adesso Cioè nel senso sì, è più difficile applicare il danno Prima spammavi la W easy Però adesso fa più danno È più difficile ma... Fa comunque più danno Ma che danno che faccio? Ma che danno che ti fanno? Eh beh grazie, sono fragilissimi Quanti schiaffi Non è che stanno... Il Baron? No Cioè non credo, forse No, no, no Stiamo un po' attenti Gare in mid Abbiamo team comp di merda Team ho queste ancora Quanto male mi ha fatto Con una W Mi avevo shottato con una W No! Eh, devo flasharla My bad Non ho avuto i riflessi A me non l'ho preso The real one Guarda Timo intanto Con quella bellissima build L'ozonia first item GG Timo GG Timo Vai, Gino Timo continuo Non sta venendo nessuno da te Timo È intintimo quello È intintimo, sì Però la build è un po' ambigua Special Intintin Vi volessi avete lasciato scappare così È hypnotizzante dire intinti Intintin Intintint Scout si possono usare E dei D di diverse categorie, non si può bestemmiare Scrauto, scuola scrauto Scrauto Posso pagarti in natura per il sub, mi dispiace mamma, non devi pagare me È Twitch che va pagato, mi sa che Twitch non accetta i pagamenti in natura Provo a pagare in natura Ines È ancora una bella ragazza, è una bella don Sì, sì, sì Guarda che piace, non so quanti anni abbia, penso una trentina Più o meno In realtà ne ha 23 e ti sente Ah sì, è una trentina, eh? Beh, è una bellissima ragazza Ui, yes, Timo Porco due, che male Ma Timo è ancora vivo, ma stai scherzando È questo, è questo È questo È questo, è questo, è questo È questo, è questo Eh no, purtroppo uno l'ha killato Rengar A sto punto ti killo anche questo No Allora, te lo killa lui Ma un pizzo di merda, questa è la mia penta Ha stillato ben due kill dalla tua penta Ma lo riportiamo sto coglione qua Ma è penta Anche prima mi hanno stillato tre kill dalla penta Pensa, pensa a te Ancora inizio a fare le kill Vabbè, quel danno cos'era? Eh, ma Ezra l'era meglio prima Ok, 900 di danno gli ho fatto con lei Ah, ma allora dillo che c'è ancora quello, bro E allora dillo che ce l'hai ancora Allora va bene, allora te la concedo Tutti capaci di usare flash e fare le kill Madonna, quando appena metto il rabadon Di un mattone Non è che uno ci ha messo il porco No, no, di un mattone, di un mutanda, di yogurt Va bene Va bene Che non c'è un effettivo insulto Dovrebbe stare in un museo It belongs in a museum, dice quella No L'unica, l'unica Che mi manca effettivamente è James di Taric James Artrulli Outrageous Di Artrulli, Trulli, Trulli Outrageous Perfetto per te Arriva la ulti al baron Però mi sono reso conto che non li stanno facendo danno Vabbè, ucciderò Shyvana No, rip Peccato Rengar, però la piantina era un po' più indietro Che c'è più forte Devo purtroppo assentarmi per quei due minuti Nooo, ne... Sono esploso Devo purtroppo Ma in realtà sono esploso Va bene, ce ne faremo una ragione Sbrigati però, bro Ho fatto tutto a sommaggio di insomiglianza Non sarebbe meglio se prima della ulti usasse la W Ah, quando riesco sì Quando riesco certo che sì Però non è così facile purtroppo Dipende dai momenti Mettiamo il caso che puoi avere dei poteri presi da un'anima Da videogame e da serie tv Che potrai scegliere soprattutto Usi il film di bene Scopi personale Diventeresti un super cattivo Perché sento che sei... È una domanda tra bocchetto questa, Davide Una mosca tra le dita, viva Ok Una volta... Stilate ben cinque Che schifo Certo che... Stilare cinque kill È un pochino troppo, eh Cinque kill da una penta Cioè, nel senso Perde la sua efficacia Perché ho traurbato tutto Che va il mio ulti Olè Eh, vabbè Certo che... Oh... A gara non faccio un cazzo di danno Chissà come mai Chi lo sa Eh purtroppo se lo fanno Quello Ah non se lo sono fatti Attenzione Help Help me Help me Metti lui sta lì eh Mica si sposta Mica si sposta Mmm Mmm Un calico a Renzi Renzi me fa un cazzo Comando i vocali coerenzi sinceramente Non ha delle belle meme Si c'è Il vecchio Now is the time of lunch Shish Però dai Sono meme Vecchie ormai Su via Sono meme Vecchie Dai Devo farmi sto cazzo di Rabanon Quanto lo vendo questo 340 Non ancora Not È Not So Sexy guy Fresh dance Dio Timo She's the unique Paral of Da usare Bravo ragazzo Vedo che te ne intendi bro Guarda quanti danni ho smistato lì in mid lane con la mia wound Mi serve assolutamente il livello 16 I danni aumenterebbero di un botto al livello 16 Mi serve troppo Now is the time of lunch Occhio Ma che ci fosse lui Non avevo il minimo dubbio Oh Gesù Cristo Boom Eh rip Ien e afk ragazzi Report ien Riportatelo Reddit mi raccomando Posto su reddit raga Bella Joe come stai bello Ciao carissimo Uh Ah il problema è che sono troppo tank C'è davvero Shyvana Garen Eh È ardua Eccomi Timo non serve Bella ien Timo non serve assolutamente un cazzo Che è successo Che io sono l'unico che fa danni Un pochino Rengar Ma cioè È proprio la disperazione Cioè io faccio un botto di danni Resco a bilanciare Ma guarda Timo 1-9 Non fa il minimo danno Ok Ma si è fatto il void staff Si sta facendo Cioè si sta facendo adesso Il Nashor Tooth Pensate Nessuno si è accorto Al tuo senso ovviamente Mi mancavi bro Anche tu mi mancavi Sono quegli altri beduini Ecco Ma hai visto che male che mi ha fatto Si l'ho visto Ha 20 kill È l'unico che sta facendo le kill Guarda lì Ma quel danno era un po' troppo È un po' troppo fidato Effettivamente Il ragazzo Il fenomeno Il fenomenaccio Uh Ah Letteralmente con una singola carta Guarda la prende guarda Ma che roba Yes baby Ha usato pure il barrier Sfigato Coglione Rotto nel culo Quello là dietro Guarda i danni Via 1600 di danno Fatto all'inibitor Sì va bene Da 30 km Mate ma Cioè Si vede che non mi segui Lui fa Lui fa gli attacchi wireless È il detentore degli attacchi wireless Quello ragazzo lì È il primato Yes baby Sparisci Uh 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 Rekt Rekt Figlio di puttana Clippate sta merda Spammate Fieri com G in chat Rekt T'ho rectato Rektato sto coglione A casa tua Porca puttana Su sto culo Madonna Sparisci Abbiamo vinto Porca troia se abbiamo vinto però Porca troia Distrutto Spaccato Predictato Ho carriato Prevedibile Come la rinascita di Gesù Cristo Tutti gli anni lo stesso giorno Cazzo Non potete fare un team fight Che non avete una fronte Che cazzo serve il team fight Baldo Quando c'è un Ezreal così Grazie dei due game E ci vediamo Per la prossima Bella Ian Stammi bene Ciao bello Ciao ciao Ovviamente ragà top damage Ma manco a dirlo Manco a cazzo dirlo Voglio dire Cioè Easy Easy Porca troia Che danni sto champion Quanto lo amo Quanto cazzo lo amo Ragazzi Vai a fare Madonna Da un'altra parte Andrò a fare rom Sta gente qua Io guarda Non ho parole Chissà se mi faranno giocare Il mio blitzcrank Full AP Ci conto tantissimo Ci conto tantissimo A fare il mio blitz Full AP Ci riprovo Per l'ennesima volta Sento applausi Da tutto il mondo Bella Ocolop Come stai Bello Ragazzi Se volete Supportare il canale Cliccate sul tasto Abbonati sopra Lei potete abbonarvi Pagando Come fanno in molti Oppure Gratis con Amazon Prime Cliccate sul tasto Vedete se ci avete Dispondibile Il sub col Prime Magari l'avete Da qualcun altro Magari non ce l'avete Di conseguenza Potete subire A questo canale Spamare le mie Bello